Cari amici eccoci qui tornati dopo qualche impegno o finalmente dopo tanto tempo trovo già al mattino la previa di Montenegro e stasera grazie per noi italiani che magari preferiamo giustamente dormire la notte domani vedremo una puntatona dirò ovviamente il main event sarà un grande match parliamo di Drew McIntyre contro Kate Lee poi avremo niente po po di meno uno steel cage match tra Dominic Mysterio e Seth Rollins quindi alla grande ragazzi poi sfida attitolata anticipata rispetto a Clash of Champions tra Asuka e Mickie James e poi sfida tra campioni e campioni di coppia Street Profits Road Tag Team Champions We Won't Smoke contro i quindi cari amici che lo vogliate seguire stanotte in diretto domani non importa sarà una puntatona cari amici ci vediamo al prossimo video dedicato alla Champions League grande puntata sarà una grande puntata dirò non ce la perdiamo assolutamente ciao a tutti amico ciao 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 ciao